Comincia a salire la febbre del lunedì sera in casa Catania con viaggianti e compagni impegnati per la prima volta in settimana nella preparazione di uno dei match più importanti dell'anno. Sale sempre di più la convinzione che una vittoria contro il Trapani sia sinonimo di un finale di stagione da vivere al Cardiopalma. Già, non solo perché un ipotetico successo lunedì proietterebbe rossazzurri al secondo posto, ma anche perché li avvicinerebbe a meno uno dal Lecce, che potrebbe anche vacillare nelle ultime due uscite stagionali. Dunque concentrazione massima in casa Catania, che deve valutare le condizioni di Ramzi Aia, dato comunque il recupero in vista del Trapani. Rossetti e Caccavallo sempre ai box, con Lucarelli che valuta già da subito le carte. C'è ancora tanto tempo, ma è aperto il ballottaggio porcino marchese, con quest'ultimo che negli ultimi tempi è sembrato in calo dal punto di vista atletico. Dunque una gara dove il pareggio non serve a nessuno, in un Massimino che comincia già a gremirsi e colorarsi a distanza dalla partita. Nell'occasione è stata inaugurata la giornata rossa-azzurra, dove saranno previsti 15.000 spettatori. Il match sarà arbitrato da Luca Massimi di Termoli.